Lo sapevamo che era molto complicato rimontare lo 3-0. All'impiezo abbiamo attaccato molto, molto corner. Lo che mancava è metterlo antes. Teneva subito una buona occasione Lara. Credo che mettendo un gol nel primo minuto la partita era differente. Dopo che ne metterò uno è normale che tutto arriva, tentare di aguantare almeno la vittoria o l'impate. Più che altro per l'orguglio. È normale che è molto complicato dopo il 2-0, però è normale. Credo che lo spirito che abbiamo messo in questo partito è buono. Abbiamo tentato di rimontare, abbiamo messo il penalti, abbiamo ottenuto un'altra occasione. e credo che i tifosi sono orgogliosi dell'animo che abbiamo messo. Vale. E' la parola, ti credo che la parola del primo minuto? Un altro partito è molto difficile. Normalmente la Liga e le competizioni che ci stanno mettendo. Stiamo facendo un'ottima Liga. e spero che passiamo un buon Natale, un buon fin di anno, tentando di non perdere il sábato. e spero che passiamo un buon Natale, un buon Natale, un buon Natale, un buon Natale, un buon Natale. Grazie.